L'osservanza esteriore della legge non è sufficiente per essere dei buoni cristiani, bisogna avere un cuore puro, libero da ogni ipocrisia. Lo ha ricordato con forza Papa Francesco prima della recita mariana dell'Angelus. Come per i farisei, anche oggi il cristiano corre il rischio di credersi migliore degli altri per il solo fatto di osservare delle regole, senza poi essere capace di amare il prossimo. I cuori duri e orgogliosi non si aprono al vero incontro con Dio e con la sua parola, ha chiarito il Pontefice e i fedeli radunati in piazza San Pietro. Solo attraverso atteggiamenti concreti è possibile vivere una vera conversione, ricercando la giustizia e la pace, soccorrendo i poveri, i deboli e gli oppressi. Non sono dunque le cose esteriori che ci fanno santi, ma il cuore, dove passa il confine tra il bene e il male. Senza un cuore purificato, ha concluso Papa Bergoglio, ribadendo il primato dell'interiorità, non si possono avere mani veramente pulite e labbra che pronunciano parole sincere di amore, di misericordia, di perdono.